Aprirà regolarmente al pubblico dopo domani, 5 marzo, a Roma, la mostra dedicata a Raffaello è visitata in anteprima nel pomeriggio dal presidente Mattarella, un evento allestito alle scuderie del Quirinale che celebre 500 anni dalla morte dell'artista, simbolo del Rinascimento. Esposti più di 200 capolavori, di cui 120 firmati da Raffaello, provenienti dagli uffizi e da altri musei di tutto il mondo.